Ne potete immaginare cosa vi succederebbe se cercaste di portarli nella foresta. E il cavallo allora? disse Dorina. Non hai detto che glielo rimanderai? No, perché non intendo rimandarglielo. E la tua promessa allora? A questo penso io. Non gli rimando il cavallo, perché glielo riporto. Allora capirono che Gandalf stava per lasciarli proprio sul limitare di Bosco Tetro e si disperarono. Ma nulla di ciò che dissero riuscì a fargli cambiare idea. Ne abbiamo già parlato quando siamo arrivati alla Carroc, disse. Discutere non serve a niente. Come vi ho detto, ho degli affari importanti da sbrigare giù a sud e sono già in ritardo per aver perso tempo con voi. Potremmo ritrovarci prima che tutto sia finito, ma ovviamente potrebbe anche non succedere. Dipende dalla vostra fortuna. Dal vostro coraggio e dal vostro buonsenso. Mando con voi il signor Baggins. Vi ho già detto che è più in gamba di quanto immaginiate. E tra non molto ve ne accorgerete da soli. Perciò coraggio, Bilbo. E non fare quella faccia triste. Coraggio, Thorin e compagnia. Questa è la vostra spedizione, dopo tutto. Pensate al tesoro che troverete e dimenticate la foresta e il drago almeno fino a domattina. Quando il domani mattina arrivò, Gandalf ripete le stesse cose. Così ora non era rimasto altro da fare che riempire gli otri a una limpida sorgente che trovarono vicino all'entrata della foresta e scaricare i poni. Distribuirono il carico il più equamente possibile, anche se Bilbo sembrava che la sua parte fosse terribilmente pesante. E non gli andava l'idea di dover arrancare per miglia e miglia con tutta quella roba sulla schiena. Non ti preoccupare, disse Thorin. Ben presto diventerà fin troppo leggero. Immagino che tra non molto rimpiangeremo di non aver più fardelli pesanti quando il cibo comincerà a scarseggiare. Infine salutarono i poni, che voltarono la testa e si avviarono verso casa. Trotterellarono via allegramente, con l'aria ad essere assai contenti di puntare la coda verso l'ombra di Bosco Tetra. Mentre si allontanavano, Bilbo avrebbe potuto giurare che qualcosa di simile ad un orso si staccasse dall'ombra degli alberi e caracollasse veloce dietro di loro. Ora che anche Gandalf disse addio, Bilbo sedeva per terra sentendosi molto infelice e rammaricandosi di non essere accanto allo stregone sul suo alto cavallo. Dopo colazione, una ben misera colazione, aveva fatto qualche passo nella foresta e gli era parso che lì dentro fosse tutto buio e misterioso. Di mattina, non meno che di notte, una sensazione come di allarme e di attesa aveva sussurrato tra sessi. Addio, disse dunque Gandalf Hattorin, e addio a tutti voi, addio. Adesso la vostra strada va dritta, verso la foresta. Non allontanatevi dal sentiero, se lo fate c'è una possibilità su mille che lo ritroviate e usciate da Bosco Tetra. E in tal caso, non credo che io, o nessun altro, possa più rivedervi. Ma dobbiamo proprio attraversare la foresta? Si lagnò lo Hobbit. Certamente, disse lo stregone, se volete arrivare dall'altra parte. O la attraversate, o abbandonate la vostra ricerca. E non ti permetterò di fare marcia indietro, Signor Baggins. Mi vergogno di te per averlo pensato. Devi badare a tutti questi nani. Invece mia. Aggiunse ridendo. Ma no, no, disse Bilbo. Non volevo dire questo, volevo dire che non c'è un modo per aggirarla. C'è, se vi va di fare circa duecento miglia in più a nord e il doppio andando a sud. Ma non trovereste un sentiero sicuro nemmeno in quel caso. Ricordatevi. Che ora siete al confine delle terre selvagge e che dovunque andiate vi spettano sorpresine di ogni genere. Prima di riuscire ad aggirare Bosco Tetro da nord vi trovereste in mezzo alle voragini delle montagne grigie che pullulano di orchi, urconi e orcacci. Della peggior specie. E prima di riuscire ad aggirarlo a sud vi trovereste nelle terre del Negromante. E nemmeno tu, Bilbo. hai bisogno che ti racconti le storie che si narrano su quel nero stregone. Non vi consiglio di avvicinarvi in alcun modo ai luoghi sorvegliati dalla sua torre scura. Rimanete sul sentiero. Tenete alto il morale e con un'enorme dose di fortuna, forse, un giorno riuscirete a venire fuori e vedere delle lunghe paludi o stendersi sotto di voi. Al di là di esse, alta d'oriente, la montagna solitaria. Dove vive il buon vecchio Smaug. Sebbene mi auguri che non stia aspettandovi. Certo, stai facendo proprio di tutto per tranquillizzarci. Brontolo a Thorin. Addio! Sei davvero deciso di non venire con noi. Allora è meglio che te ne vada senza perdere altro tempo in chiacchiere. Addio, allora. E addio un'ultima volta, disse Gandalf e girato il cavallo si allontanò al galoppo verso occidente ma non poté resistere alla tentazione di avere l'ultima parola. Poco prima di essere lontano si girò e facendo conca con le mani davanti alla bocca li chiamò e si udirono la sua voce raggiungergli fiocamente. Addio! Fate i bravi e state in guardia e non lasciate il sentiero! Poi spronò il cavallo e presto svanì alla vista. Arrivederci e vattene! Grugnironi i nani tanto più arrabbiati in quanto erano davvero sgomenti all'idea di averlo perso. Adesso cominciava la parte più pericolosa di tutto il viaggio ciascuno si mise in spalla il pesante fardello e l'otre con la propria razione di acqua. Tutti volsero la schiena alla luce che inondava le terre là fuori e si tuffarono nella foresta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!